Dopo la crisi e i tagli occupazionali del 2008, che colpirono tutto l'indotto automotive in Val di Sangro, dopo il recente esodo volontario di 100 unità con 40.000 euronetti di incentivo e 2, 3 o 4 anni di mobilità a seconda delle fasce d'età dei lavoratori che hanno preferito lasciare, la Honda conta ad oggi 531 addetti, ma gli esuberi sono ancora 170. Questi hanno scelto di rimanere nello stabilimento di Atessa, in attesa dei prossimi sviluppi legati al progetto New Honda. Che non convince molto i sindacati, in particolare Wilm, che all'incontro programmato per il 20 dicembre prossimo con il responsabile europeo delle due ruote Honda, Mr. Cato, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, presenterà delle controproposte. Nicola Manzi, segretario provinciale Wilm Chieti. Il mercato delle moto è in tracollo. Noi vogliamo garanzie e certezze che, al di là della gestione dei 170 esuberi, noi dobbiamo cominciare a parlare di volumi di lavoro. I volumi di lavoro si rapportano con le teste che restano dentro la Honda. Non ci interessa produrre soltanto SH o altri modelli che la Honda vuole portare. Noi vogliamo la garanzia del lavoro, non solo per i prossimi tre anni, che sono l'obiettivo di pareggio di bilancio che l'azienda si è data, ma vorremmo un progetto industriale legato al lavoro che vada oltre i tre anni, al rilancio dello stabilimento Honda e soprattutto con i benefici per tutto il territorio indotto compreso. La Honda è in Val di Sangro da oltre 40 anni. Ha al suo interno professionalità di alta specializzazione, che sarebbe davvero un peccato disperdere. Manzi chiede allora il confronto delle competenze locali con il mercato globale. Intanto questa riorganizzazione legata a una crisi di mercato e legato soprattutto al bilancio negativo, meno 37 milioni di euro della Honda, ci portano a far sì che dobbiamo intanto riprenderci un po' di fiducia nella casa madre giapponese, dimostrare nei fatti che lo stabilimento di Atessa ha qualità e professionalità da vendere. Noi vogliamo essere trattati e trattati alla pari di uno stabilimento giapponese, avere le stesse opportunità di crescita e di sviluppo, perché oggi il dato fondamentale è questo. Non possiamo più attaccarci a progetti industriali vani, progetti industriali che poi possono mettere a rischio il futuro di un'azienda così importante. Il Ministero deve dare il suo contributo, le istituzioni locali e nazionali devono mettere qualcosa di loro. Noi come lavoratori siamo pronti a fare la nostra parte, ma qui la firma e la garanzia ce lo darà solo la proprietà alla quale noi dobbiamo pretendere di rivinticare, sì il progetto New Honda, ma garanzie sul futuro dello stabilimento.